Tutto in due anni, dalla prima pietra all'inaugurazione. Il nuovo plesso scolastico di Terlizzi, intitolato al teologo Monsignor Gaetano Valente, recentemente scomparso, riunisce il liceo scientifico e l'istituto magistrale in una struttura all'avanguardia dal punto di vista tecnico e pedagogico. È sicuramente un momento di grossa soddisfazione per tutta la comunità, anche perché questa scuola va ad animare un quartiere che un tempo era periferia. Oggi, grazie agli interventi fatti negli ultimi anni e agli interventi che ci saranno comunque nei prossimi anni, non sarà certamente più periferia o sarà una periferia centralizzata, permettetemi questo termine. All'inaugurazione sono intervenuti il vescovo di Molfetta, Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi, Monsignor Luigi Martella, il governatore di Chivendola, Terlizzi Sedoc e il presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli, che ha sottolineato il buon lavoro fatto per portare a compimento l'opera prima della sparizione dell'ente da lui presieduto. Sfido qualunque amministrazione, fosse comunale, fosse provinciale, regionale, non del nostro territorio ma dell'Italia, ad aver realizzato 11 istituti scolastici in tempi medi di due anni, dalla posa della prima pietra alla consegna dell'istituto agli nostri studenti. Questo significa incentivare e stimolare anche i nostri ragazzi a quello che sarà poi l'impegno futuro loro e quindi a questa formazione che viene fatta in ambienti del tutto idone, tecnologicamente anche avanzati, innovativi. Oggi per Terlizzi è festa, è una buona notizia. Abbiamo avuto istituti degradati, vandalizzati. Oggi un polo liceale come questo è una cartina di tornasole, delle ambizioni, della volontà della mia comunità. Io non sono malato di localismo, però questo è il mio paese, lo amo con tutto me stesso, quindi sono molto contento di questa bella giornata.